nuvole pioggia tempo uggioso ma non siamo in inghilterra questa non è newcastle non è il sam james's park ma siamo a castelnuovo al comunale nella casa dei neroverdi per la prossima ve challenge andiamo la ve challenge di oggi hable spagnol ci sono due giocatori paraguaji del castelnuovo valiente è luogo martinez allora andiamoli a conoscere a Grazie a tutti. Sfida latina che parla spagnolo oggi, siamo con Valiente e Lugo Martinez, due perle del Castelnuovo. Si sfideranno, una sfida abbastanza difficile, tutta di qualità e di tecnica come quella che hanno appunto i giocatori sudamericani. Sfideremo con l'interno e con l'esterno, i due calciatori che dovranno centrare con cinque tentativi la piccola porticina qui vicino a noi. Cinque tentativi con l'interno, cinque tentativi con l'esterno. Siete pronti? Sì, siamo pronti. Pronto? Sì, sì, certo, siamo pronti. Allora siamo tutti listos e iniziamo. Che parta la sfida, the challenge. Allora siamo pronti. Allora siamo pronti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se perdono, è così il calcio. Perfetto, allora grazie ragazzi, grazie al Castelnuovo in bocca al lupo per le prossime sfide e noi ci vediamo alla prossima V-Challenge. Who's next?